ciao a tutti oggi costruiamo la scena numero 3 dell'esercizio 2 rivediamo un po tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora allora abbiamo costruito la scena 1 poi abbiamo costruito questa scena del mare e oggi costruiamo questa scena di campagna ok fermiamoci qua ci sono come al solito molti elementi identici a quelli delle scene precedenti come il sole le nuvole il cielo i raggi e anche il prato e elementi nuovi che non sono mai comparsi nelle scene precedenti che aggiungeremo qui bene quindi la prima cosa come al solito creare la composizione della scena 3 quindi composition new composition in titolo come al solito scena 3 i preset sono i soliti hd tv 1080 25 10 secondi come le altre scene ok subito andiamo a recuperare il cielo i raggi il sole le nuvole per esempio dalla scena 2 quindi apro nella timeline la scena 2 faccio un po di spazio nella timeline allora seleziono nell'ordine il cielo che mi serve poi col tasto control raggi una nuvola il sole e anche le altre nuvole perché mi servono un po di nuvole bene tutti questi elementi li copio in un colpo solo quindi dopo averli selezionati control c con la scorciattoria da tastiera poi torno nella scena 3 e control v purtroppo l'ordine con cui si sono incollati non è quello giusto noi dobbiamo mettere il cielo sullo sfondo poi i raggi e poi gli altri elementi però andiamo a dare un'occhiata per capire come sono distribuiti questi elementi allora questa volta i raggi il sole sono messi nella parte destra bene allora il cielo rimane dov'è i raggi li prendo e li metto qua poi mi servono un paio di nuvole qua una e una due il sole lo prendo lo metto qui al centro dei raggi il sole deve essere inclinato verso destra con sì due nuvole dietro e una davanti benissimo allora il sole un po più grande mi sembra poi tasto r per la rotation e lo ruoto un po verso destra dietro a le due nuvole una e una due magari leggermente più grandi benissimo e qui invece due nuvole più piccole e me ne serve un'altra qui davanti al sole quindi duplico una qualsiasi delle nuvole control d e la prendo la metto qua benissimo ora andiamo a vedere cos'altro ci serve adesso costruiamo le due colline con i fiori sopra noi abbiamo già costruito nella scena 2 una collina coi fiori però non è esattamente come ci serve ma serve un po più larga e più bassa con i fiori distribuiti in modo diverso per cui non prendiamo tutta intera la precomposizione che abbiamo qua collina più fiori scena 2 piuttosto entriamo dentro la composizione collina più fiori e copiamo singolarmente la collina e i fiori quindi per entrare dentro la composizione collina più fiori basta che io faccio doppio clic qua su collina più fiori e praticamente apro nella timeline la composizione collina più fiori scena 2 bene potrei proprio copiare tutti questi elementi quindi seleziono tutti e poi distribuirò in modo diverso nella scena 3 quindi li seleziono tutti bene contro il c di nuovo torno nella scena 3 e contro il v bene questa volta si sono incollati nell'ordine giusto però vediamo che non ci servono così ma io voglio allora una collina più piccola qui è bassa magari anche un po più lunga benissimo e contro il d perché mi servono due colline e un'altra più alta più o meno qua benissimo mentre invece i fiori ne ho bisogno qualcuno qui mettiamoli un po' a caso e qualcuno invece su questa collina qua magari ne duplico ancora qualcuno tipo uno qui e magari ancora uno quassù benissimo direi che possono bastare facciamo come abbiamo fatto per la scena numero 2 cioè tutti questi elementi le due colline e tutti i fiori che ci stanno sopra li precomponiamo soprattutto per una questione di spazio risparmiato quindi seleziono la collina e poi shift fino all'ultimo fiore e precompongo quindi layer precompose questa precomposizione la possiamo chiamare collina più fiori però della scena numero 3 così la distinguiamo dalla precomposizione collina più fiori scena 2 andiamo a vedere nella finestra di progetto dove è andata a finire e qui fuori la mettiamo nella stessa cartella precomposizioni che avevamo preparato per raccogliere tutte le precomposizioni che avremmo creato in seguito infatti insieme all'altra collina più fiori scena 2 bene e abbiamo risparmiato un bel po' di spazio qua ora andiamo a vedere cosa ci serve ci servono ancora molte cose incominciamo dalla casa che è un elemento statico che sta in cima alla collina quindi andiamo a cercare il disegno casa eccolo qui lo aggiungiamo sappiamo che è un disegno illustrator quindi la prima cosa è accendere il pulsante qui sulla destra che ci permette di mantenere definizione al disegno anche se lo è in grandissimo beh in questo caso invece dobbiamo rimpicciolirlo un po' direi che questa è la grandezza giusta e vogliamo la casa dietro la collina quindi la spostiamo qua e la facciamo più o meno di questa grandezza benissimo e anche questo elemento è a posto ora pensiamo ai fiori sono dei girasoli che hanno i petali che ruotano e poi a loro volta i fiori oscillano a destra a sinistra e all'inizio della scena guardiamo bene non sono presenti ma compaiono ecco sbucano dalla terra con un'animazione sulla scala benissimo allora andiamo a recuperare il disegno girasole eccolo qua che è una composizione quindi doppio clic la apriamo qui l'unica animazione che dobbiamo fare è far ruotare i petali mentre l'oscillazione essendo un'animazione sulle proprietà base la faremo poi dopo all'interno della scena 3 quindi la prima cosa innanzitutto è accendere i pulsanti per mantenere la caratteristica vettoriale perché a loro volta questi sono due disegni vettoriali bene poi sul livello petali il primo lavoriamo sulla rotation che è già aperta benissimo quindi accendo l'orologio di rotation al tempo 0 0 gradi e a 10 secondi gli facciamo fare io direi meno di un giro magari 200 qualcosa facciamo una preview vediamo se la velocità è adatta direi di sì ora mentre i petali ruotano probabilmente i petali escono dall'inquadratura escono dalla composizione quindi la cosa che dobbiamo fare è allargare le dimensioni della composizione quindi vado nel menu composition composition settings e allargo innanzitutto la larghezza benissimo adesso attenzione a che faccio io voglio aumentare anche l'altezza però vorrei che l'altezza aumentasse solo verso l'alto e non verso il basso perché voglio mantenere la base del gambo qui attaccata al limite della composizione in basso per cui in questo caso qua guardate che faccio vado nella parte advanced dei composition settings e metto l'anchor point chiamiamolo così della composizione in basso al centro cioè clicco qua ora se torno in basic e aumento le dimensioni dell'altezza ecco vedete che aumenta soltanto verso l'alto ma non verso il basso è come se avessi tenuto fermo questo lato qua ok quindi do l'ok e così siamo a posto benissimo torniamo nella nostra scena 3 prendiamo l'elemento girasole aggiungiamolo qua lo riduco in grandezza ok più o meno così e poi lo voglio dietro la collina quindi lo sposto dietro benissimo magari anche un po' più piccolo allora la prima animazione è sulla scala e poi la rotazione per tutta quanta la durata della composizione però sia per la scala sia per la rotazione ho bisogno che l'anchor point si trovi qui al centro della base praticamente alla base del gambo quindi posso farmi aiutare in questo caso dalla palette move anchor point basta che io clicco nella parte bassa al centro ecco l'anchor point si è posizionato qui benissimo allora io voglio innanzitutto lavorare sulla scala quindi clicco il tasto S e sulla rotation shift R bene incominciamo dalla scala voglio che al tempo 0 la scala sia 0 quindi do il valore 0 la scala e poi accendo l'orologio e fisso il primo keyframe circa una decina di frame dopo quindi circa 10 frame aumento la scala riporto il fiore alla grandezza che mi serve che è più o meno così ma attenzione non mi basta questo per la scala perché guardate come sbucano fuori ecco avete visto hanno un rimbalzo quindi alla proprietà scale l'accendo applico l'effetto molla che abbiamo già applicato anche nella scena 1 quindi clicco sul bottone applica effetto molla la proprietà scala ha i numeri rossi adesso quindi adesso dovrebbe funzionare facciamo una preview di pochi secondi vediamo direi che è perfetto bene ora questo girasole non solo sbuca da terra ma poi per tutta quanta aduata della composizione oscilla a sinistra e a destra quindi di nuovo torno al tempo zero faccio in modo che all'inizio sia anche se non si vede perché naturalmente è piccolo faccio in modo che all'inizio sia ruotato di qualche grado tipo una decina di gradi a sinistra e accendo l'orologio dopo un paio di secondi circa lo ruoto verso destra una decina di gradi anche a destra bene adesso voglio che ogni due secondi oscilli dalla parte opposta quindi per fare prima attenzione cosa faccio copio questi due keyframe il primo e il secondo quindi seleziono poi ctrl c quindi copiati vado adesso col cursore dove voglio incollarli cioè a 4 secondi 2 più 2 e 4 e c c quindi che succede che all'inizio è a sinistra poi a destra poi di nuovo a sinistra poi di nuovo a destra e completo l'operazione incollando ancora un paio di keyframe a 8 secondi gli ultimi due c c poi per completare l'operazione ammorbidisco i keyframe così quando inverte direzione il fiore decelera e accelera quindi seleziono tutti i keyframe e scorciatoia f9 facciamo una preview un po' più lunga vediamo se il ritmo è giusto benissimo ora devo fare in modo di avere altre copie di girasoli distribuite qua e là con dimensioni diverse quindi vediamo quante ce ne servono abbiamo detto tre qui uno più picco uno grande e poi tre in scala qua e due grandi in primo piano benissimo allora seleziono il girasole ctrl d per duplicarlo prendo il girasole lo sposto un po' più a destra e siccome lo voglio più piccolo devo correggere la sua scala il che significa che clicco il tasto u per vedere i suoi keyframe devo correggere il secondo keyframe questo qui quindi ci vado sopra con il mouse tasto destro go to keyframe time in modo che il cursore vada proprio sopra quel keyframe lì e adesso correggo la scala finale cioè un po' più piccolo bene poi ho bisogno di un altro girasole qui a destra quindi seleziono quello precedente quello più grande ctrl d di nuovo e lo sposto qua poi rapidamente ctrl d ancora uno qui poi ctrl d uno qui di nuovo di nuovo tasto u sono già sui keyframe finale quindi posso ridurlo tranquillamente subito e poi ctrl d di nuovo sposto tasto u e riduco e riduco ancora e magari allineo un po' meglio tipo qua bene me ne servono ancora due grandi grandi in primo piano quindi posso prendere uno a caso ancora l'ultimo questo ctrl d lo voglio qui ma come vedete finisce dietro la collina quindi lo sposto davanti alla collina nella timeline e lo ingrandisco e anche parecchio tipo così e poi un'altra volta ctrl d tasto u per vedere i keyframe questo un po' più piccolo e lo metto qua dietro un filo più piccolo benissimo facciamo una piccola preview ok sbucano tutti quanti insieme i due fiori in primo piano notate hanno anche un'ombra gli altri no nei primi due sì quindi prendiamo uno dei due questo qua effect perspective drop shadow e aumento un filo la distanza e abbasso l'opacità perché non lo voglio troppo forte benissimo poi che faccio siccome quest'ombra è perfetta per questo fiore va bene anche per l'altro seleziono la drop shadow nella finestra degli effetti quindi la seleziono ctrl c così come si copiano i livelli si possono copiare anche gli effetti seleziono il secondo girasole nella timeline eccolo qui e ctrl v e quindi anche questo secondo girasole all'ombra benissimo ora attenzione a una cosa guardiamo un attimo il filmato cosa succede all'inizio di questa scena all'inizio di questa scena c'è questa transizione quindi tutti i fiori dovrebbero cominciare la loro animazione un po' più tardi del tempo zero io comincerei dopo un secondo quindi che facciamo selezioniamo tutti i nostri girasoli quindi seleziono il primo poi fino a qua poi gli ultimi due qui li prendo tutti e li sposto contemporaneamente a mano fino a un secondo poi di nuovo se vado a vedere il filmato non tutti sbucano allo stesso momento qualcuno prima qualcuno dopo però oscillano tutti tutti allo stesso modo sono tutti in fila per cui adesso per ritardare qualcuno di questi girasoli ulteriormente non posso prenderlo e spostarlo in avanti attenzione prendo uno a caso lo sposto più in avanti arriva dopo ma dopo oscilla anche diversamente dagli altri perché l'oscillazione è ritardata quindi non va bene spostarlo in avanti se voglio che sbuchi fuori un po' più tardi cosa devo fare devo aprire la proprietà scala quindi clicco il tasto S e ritardare la coppia di questi due keyframe quindi l'animazione sulla scala sarà un po' più in ritardo io direi di farlo un po' a tutti i fiori quindi S con un po' di ritardo ma proprio così casuale quindi di nuovo in modo che ognuno abbia il suo tempo di ingresso chi prima chi dopo ma proprio è casuale senza preoccuparmi della tempistica faccio una preview per vedere ok quindi ognuno nasce ma in un momento diverso dagli altri bene quindi anche con i fiori siamo a posto adesso quali elementi devo inserire cominciamo con il trattore il trattore risale la collina da destra a sinistra e ha le due ruote che girano bene allora andiamo a cercare nella finestra di progetto il trattore è una composizione naturalmente quindi doppio clic la prima cosa che faccio accendo i pulsanti per mantenere il vettoriale bene devo lavorare sulla rotazione delle due ruote ruota avanti e ruota dietro devono ruotare la stessa velocità tutte e due verso sinistra quindi che faccio seleziono i due livelli uno e uno due clicco il tasto R gli anchor point sono al centro sì accendo l'orologio di tutte e due contemporaneamente quindi metto il primo keyframe per tutte e due i livelli poi vado in fondo e vediamo potremmo far fare io direi due o tre giri verso sinistra non di più quindi seleziono di nuovo i due livelli clicco sui giri di una delle due e metto meno tre perché voglio che giri in senso anti-orario verso sinistra quindi meno tre e do l'ok quindi entrambe girano verso sinistra ok speriamo che vada bene probabilmente anche se per poco le ruote escono dall'inquadratura quindi composition composition qui direi che devo soltanto allargare in ogni direzione questa volta quindi va bene così torniamo nella scena 3 prendiamo la composizione trattore mettiamola qua la riduco un po' direi più o meno di questa grandezza ora come livello dove sta? sta dietro la collina dietro la casa ma davanti ai fiori quindi prendo la metto dietro la collina la casa purtroppo non è al posto giusto la metto anche lei dietro la collina quindi collina casa trattore e poi tutti i girassoli che stanno sullo sfondo bene verifichiamo a mano se è proprio così sì ora io voglio che il trattore parta da più o meno in questa posizione e finisca qua dietro la casa innanzitutto forse dobbiamo ridurlo ancora un po' ok più o meno questa ha la sua posizione di partenza vado al tempo zero seleziono il trattore clicco il tasto P di position e accendo l'orologio e alla fine a 10 secondi voglio che il trattore si trovi lo sposto a mano voglio che più o meno si trovi qua che sia praticamente quasi uscito dall'inquadratura magari un po' più piccolo ancora ok adesso devo fare in modo che faccia però un percorso curvilineo che segua il profilo della collina quindi che faccio selezioni punto di partenza d'arrivo e piego queste maniglie naturalmente questo non basta perché il trattore non si mette in direzione della curva rimane sempre in posizione orizzontale ma noi sappiamo che se selezioniamo il livello andiamo nel menu layer e nella sezione transform attiviamo l'auto orient attiviamo orient along path che succede il trattore si orienta lungo il tracciato però come spesso accade dobbiamo correggere la direzione iniziale di in questo caso 180 gradi quindi r rotation e correggo di 180 bene adesso arriva il momento di aggiustare la posizione allora forse può stare un po' più in alto all'inizio e invece alla fine guardiamo soprattutto le ruote che devono stare un po' sotto terra ma non troppo io direi una cosa così vediamo facciamo una preview e all'inizio non ci siamo ma poi dopo direi di sì quindi correggiamo il punto iniziale un po' più in basso il tracciato di movimento dovrebbe essere parallelo alla collina quindi io direi che così ci siamo preview sì così va benissimo e poi il trattore prosegue e passa dietro la casa e va oltre ok bene quindi il trattore è a posto e anche la velocità giusta delle ruote direi bene adesso la macchina la macchina non ha le ruote che girano no perché sono dei cerchi neri quindi non si vedono girare la macchina è l'auto arancione è un disegno semplice quindi lo aggiungo rimpicciolisco di un bel po' io direi più o meno così ok il percorso che l'automobile fa è da dietro la collina grande e poi segue il profilo della collina piccola ed esce a destra allora innanzitutto siccome si tratta di un disegno illustretto accendo il pulsante poi lo metto dietro la collina più fiori perfetto quindi parte più o meno qua ma parte più in ritardo cioè quando la scena è già cominciata da due tre secondi forse anche forse anche tre quattro parte io direi di farla partire a tre secondi circa quindi l'auto arancione la seleziono tasto P a tre secondi accendo l'orologio di position qua dietro la collina e dopo facciamo dopo cinque secondi circa quindi a otto più o meno prendo l'automobile la metto fuori a destra e subito faccio quello che avevo fatto al trattore con le maniglie del tracciato di movimento faccio in modo che segua il profilo della collina sì naturalmente anche per la macchina devo prima attivare dal menu layer transform l'auto orient per vedere come si orienta probabilmente in questo caso non c'è bisogno di correggere infatti quindi abbasso i due punti per fare in modo che l'automobile segua bene il profilo dobbiamo guardare le ruote se stanno sotto terra oppure no ok direi che così ci siamo sì benissimo facciamo una preview allora il trattore avanza e dopo un po' direi che ci siamo perfetto ottimo ok che altro ci serve adesso abbiamo quasi finito adesso ci serve la mongolfiera la mongolfiera un po' come l'aeroplano e la barca delle scene precedenti col solito cartello che oscilla un po' casuale destra a sinistra di qualche grado quindi andiamo a cercare la composizione della mongolfiera mongolfiera doppio clic la prima cosa come al solito accendo il pulsante per mantenere la caratteristica vettoriale poi già che ci siamo ingrandiamo un po' le dimensioni della composizione quindi sia a larghezza sia in altezza andiamo ok così penso che basti allora innanzitutto ci serve una scritta con le stesse impostazioni delle scene precedenti quindi vado a prendere per esempio la scritta che c'era sulla bandiera della barca quindi apro la composizione barca eccola qua seleziono la scritta after effects tutorial ctrl c come al solito torno nella mongolfiera e ctrl v e mi serve sopra lo striscione la sposto in giù prendo la scritta la metto qui e devo scrivere every week on youtube bene quindi doppio clic seleziono after effects every week on un po' più piccolo magari e un po' più spazio tra le lettere e poi sotto youtube va bene ora lo striscione e la scritta devono ruotare un po' random a sinistra a destra in questo caso siccome l'animazione non la facciamo con un effetto allora non usiamo un livello d'aggiustamento con l'effetto sopra ma questa volta facciamo una cosa più normale cioè selezioniamo i due livelli e li precomponiamo lo striscione e la scritta e poi quando sono un elemento unico faremo l'animazione sulla rotazione quindi li ho selezionati layer precompose e li chiamo per esempio striscione più scritta della scena numero 3 ed ho l'ok questa composizione striscione più scritta scena 3 la prendo ovunque si trovi e la sposto insieme alle altre precomposizioni qua per non perderla in giro poi adesso su questa composizione devo agire sulla rotazione quindi la prima cosa da fare è mettere l'anchor point lì dove lo striscione è attaccato alla mongolfiera quindi prendo lo strumento per spostare a mano gli anchor point qua su in cima eccolo prendo l'anchor point a mano e lo metto io qua così magari zoom un po' di più così sono più preciso adesso strumento selezione clicco il tasto R per evidenziare la rotation e come al solito siccome voglio fare un po' di movimento random un po' a sinistra un po' a destra lavoro con la paletta effetto vibrazione cominciamo con il numero dimensioni la rotation ha una dimensione sola non ha la rotation x e y quindi do il valore 1 poi voglio una vibrazione in qua e in là di pochi gradi quindi 50 qui sarebbero 50 gradi a sinistra a destra troppo io ho proprio bisogno di una cosa minima tipo 5 gradi appena percettibile poi la velocità con cui cambia la rotazione ma io diminuirei questo secondo mi sembra anche questo un po' troppo veloce quindi metto 0.5 la metà di quella velocità lì seleziono la proprietà rotation e clicco il bottone applica faccio una preview vediamo sì direi che va benissimo possiamo tornare nella scena 3 ora prendo la composizione mongolfiera la aggiungo alla scena e voglio che sia dietro tutti i livelli in primo piano ma davanti agli elementi del cielo quindi prendo il livello mongolfiera lo sposto dietro i fiori e mi fermo prima delle nuvole qua vediamo quindi dietro la collina i fiori ma davanti alle nuvole al sole perfetto allora come grandezza forse un filo più grande e poi voglio che parta più o meno in questa posizione poi salga lentamente magari con un percorso leggermente inclinato e arrivi più o meno fino qua quindi partiamo da questa posizione circa porto il cursore a zero clicco sul tasto P per evidenziare la position e accendo l'orologio dopo 10 secondi alla fine voglio che la mongolfiera si trovi più o meno qua ok che la scritta sia ancora bene in campo la mongolfiera fuori va bene ma la scritta in campo e le facciamo fare un percorso un po' curvilineo ok direi una cosa più o meno così vediamo se va bene preview ok benissimo cosa ci manca ci mancano le farfalle ce n'è una qui in primo piano e poi una seconda qui quindi incominciamo a lavorare sulla farfalla andiamo a cercarla eccola qui una composizione doppio clic la farfalla deve battere le ali per simulare il battito delle ali dovremo lavorare sulla scala tra un attimo vi faccio vedere come però per prima cosa accendiamo i soliti due bottoni per mantenere la caratteristica vettoriale bene adesso concentriamoci sulle ali e evidenzio la proprietà scala ok devo lavorare sulla scala per simulare il battito delle ali ma devo fare in modo che le ali si stringano e si allargano solo in orizzontale e non in verticale perché guardate se rimpicciolisco e ingrandisco la scala non va bene se invece spengo la catena della scala e poi dopo lavoro solo sulla scala x ecco che questa animazione simula il battito delle ali quindi prendo il cursore vado al tempo zero accendo l'orologio parto da questa grandezza facciamo dopo un 5 frame 1 2 3 4 5 che le ali siano un po' più piccole tipo così ok dopo altri 5 frame 1 2 3 4 5 le ali un po' più grandi di nuovo quasi 100 magari non proprio uguale e dopo altri 5 frame circa le rimpicciolisco ancora adesso prima di andare avanti a mettere tutti i keyframe fino alla fine verifico che questi primi 4 siano ad un ritmo che mi va bene quindi faccio una preview fino qua ma prima di fare la preview ammorbidisco i keyframe quindi le seleziono F9 facciamo una preview se direi che come ritmo ci siamo adesso posso replicare questi keyframe per tutta quanta la durata della composizione quindi come al solito li seleziono CTRL C vado col cursore nel momento dove voglio incollarli quindi 5 frame dopo l'ultimo e CTRL V poi per fare prima che faccio seleziono tutti quanti i keyframe CTRL C e circa 5 frame dopo CTRL V poi di nuovo CTRL C e CTRL V e poi devo soltanto incollarli ancora una volta e ci siamo direi manca ancora un pelo CTRL V va bene posso fare una preview di qualche secondo per vedere se il ritmo è giusto direi proprio di sì benissimo siccome le ali non le ho ingrandite più del 100% le ali non escono dall'inquadratura quindi non c'è bisogno di ingrandire la composizione stavolta bene torniamo nella scena 3 prendiamo la farfalla la metto qui la rimpicciolisco un po' più o meno questa grandezza e voglio che parta da qua attraversi la scena un po' come la mongolfiera da qua a qua e finisca fuori quindi la rimetto qui la faccio partire anche lei un po' tardi non al tempo zero magari a due secondi bene seleziono la farfalla tasto P accendo l'orologio della position e facciamo circa un 4 secondi dopo quindi avanzo più o meno a 6 prendo la farfalla la metto fuori in alto e faccio fare grazie alle maniglie un percorso un po' a S tipo così va benissimo faccio una preview vediamo fino a qua per vedere se l'animazione ci va bene sì naturalmente anche qui ricordiamoci di attivare l'orientamento automatico quindi layer transform auto orient orient along path qui probabilmente ci sarà da correggere sì direi che c'è da correggere la rotazione di 90 gradi la grandezza della farfalla forse sì va bene più o meno così bene un po' più piccola può starci bene vediamo cos'altro ci serve ah la farfalla aveva l'ombra va bene questa volta l'ombra magari gliela aggiungiamo direttamente qui quando è nella scena 3 quindi la seleziono effetti perspective drop shadow aumento la distanza un pelo e abbasso l'opacità ok bene andiamo a vedere la seconda farfalla devo cambiare il colore da rosso a bzurro però voglio fare in modo che soltanto il rosso cambi e non anche il giallo allora innanzitutto facciamo una cosa che abbiamo già fatto anche per i pesci nella scena 2 cioè guardiamo i keyframe tasto U ecco io trimmo l'inizio e la fine di questo livello farfalla perché la farfalla si vede soltanto da 2 secondi cioè da qua fino a 6 quindi trimmo via tutti questi frame in più che non mi servono bene adesso duplico CTRL D e faccio in modo che il punto di partenza cioè questo sia qui ok il punto d'arrivo invece lo voglio mi sembra più o meno qua la direzione la cambiamo un po' lo facciamo più o meno così la farfalla più piccola ma deve stare anche dietro i fiori vediamo se è vero anzi fra i due fiori in primo piano quindi la prendo e la vado a mettere qua cioè dietro al primo ma davanti al secondo poi voglio che parta anche un po' più tardi quindi la sposto avanti nella timeline di qualche secondo tipo la faccio partire a 4 quando la prima farfalla è su in cima parte anche la seconda benissimo l'ultima cosa che manca è cambiarle il colore quindi la seleziono e questa volta l'effetto attenzione è effect color correction sempre ma non hue saturation perché questo effetto mi cambia tutti i colori anche i pallini gialli voglio essere più selettivo quindi ho bisogno di questo effetto qua change to color e funziona così ha due palette di colori notate qui c'è la palette che si chiama from e la palette to e ci sono anche dei contagocce io voglio portare il colore da rosso quindi da from a to azzurro quindi prendo il contagocce del from e clicco sul colore che voglio cambiare quindi vado a cliccare proprio sulla parte rossa di questa farfalla qua poi apro la palette di tu che al momento è bianca ma non preoccupiamoci e do il colore azzurro e a quel punto ci siamo ecco fatto quindi in questo caso specifico ho trasformato il rosso in azzurro mentre il giallo siccome non l'avevo selezionato non si è modificato quindi tutte le farfalle hanno i pallini gialli ma una è rossa e una è blu facciamo una preview di tutta quanta la scena vediamo se va bene perfetto aspettiamo che faccia un render completo fermiamoci un attimo soltanto una cosa un po' per precisione l'effetto ombra sulla farfalla azzurra viene prima dell'effetto change to color io direi comunque di metterlo dopo l'ombra di solito la si mette per ultimo per il resto va tutto bene quindi anche questa scena è completata quindi tutte e tre le scene sono completate nella prossima parte dell'esercizio le metteremo in fila e aggiungeremo anche queste transizioni questa qui fatta dalle nuvole che coprono la transizione tra la scena 1 e la 2 e poi questo grosso pesce che nasconderà la transizione tra la scena 2 e la scena 3 benissimo quindi anche per oggi è tutto ciao e ci vediamo alla prossima